Ciao a tutti, bentornati sul canale! Come sono i miei amici più cari, io sono una ritardataria cronica questo per dirvi che faccio a maggio un video primaverile che probabilmente avrei dovuto girare almeno un mese fa ma va bene oggi vi porto lo Spring Book Tag che ho visto sul profilo Instagram di Sofia The Wonderful Nerd Life of Sofia comunque vi lascio qua sotto sia il post di Instagram che il suo canale YouTube è una ragazza che mi piace tantissimo e super divertente e simpatica e mi fa molto piacere seguire i suoi video numero 1 in generale inverno sta per andarsene, quale libro di questo inverno ti è rimasto impresso? in realtà ne ho letti diversi questo inverno che mi sono piaciuti molto ma volendo partire da inizio anno direi Il Circo della Notte di Erin Morgerson libro che hanno letto tutti, è piaciuto la maggior parte della gente che l'ha letto io faccio parte di questa maggioranza e devo dire che mi è piaciuto tutto di questo libro la storia, le atmosfere, il tipo di scrittura, il modo in cui la scrittura mi ha portato le sensazioni, gli odori, i tessuti tutto quello che c'era descritto qua dentro io l'ho visto davanti ai miei occhi veramente molto molto bello e anche la storia mi è piaciuta il fatto che la storia d'amore non fosse così importante ma si amalgamasse bene con tutto il resto della storia veramente consigliatissimo numero 2 inizia la stagione dei vestiti a cipolle e del fularino in borsetta quale libro ti sei portata dietro per praticità? allora sempre rimanendo in quest'anno mi sono portata dietro per praticità Il Momento Prima di Ricominciare di Alessia Pierri è un libricino sottilissimo che mi sono portata dietro quando sono andata alla cuore di Genova con Marta e avevo bisogno di un libricino leggero che mi... da leggere durante le ore in treno però non volevo neanche una cosa pesante visto che avremmo girato tutto il giorno e la spalla volevo che rimanesse attaccata numero 3 Rose, viola e lilla un libro dalla copertina floreale allora per questo ho dovuto veramente girare tutta la libreria perché non ho praticamente copertine floreali o meglio ho un pieno di copertine con erba e alberi ma non fiori cioè l'unica che ho è questa qui che è il primo libro dei diari di alla mezzanotte l'ora segreta e c'è questa rosa che è parecchio morente come se l'avessi curata io non si capisce che l'autunno è la mia stagione preferita, vero? numero 4 La rinascita della natura un libro che parla di natura e di piante allora io non avevo un libro specifico sulle piante però un libro su dei luoghi naturali da visitare e si tratta del ritorno dei Cantalamappa dei Wuming questo è un libro che unisce sia luoghi realmente esistenti che luoghi inventati e praticamente a fine libro avete le coordinate dei luoghi realmente esistenti che visitate durante la lettura quindi direi questo numero 5 Eciu a quale tema o espediente letterario si è allergico? triangolo amoroso tutta la vita triangolo amoroso no non lo voglio più vedere basta numero 6 Piaggio a Catinelle un libro che ti ha fatto piangere non ne ho tantissimi e anche qui ho cercato quello più recente di quelli che ho letto e ho trovato pomodori verdi fritti al caffè di Wiston Stop di Fanny Flagg in questo libro c'è un personaggio a cui mi sono affezionata tantissimo che ho trovato adorabile dolcissimo troppo tenero e nel momento in cui sparisce io mi sono sentita come se una cara amica andasse via veramente personaggio adorabile numero 7 pesce d'aprile un libro che ti ha colto di sorpresa ho tirato una bella fregatura allora ve ne porto due sia quello che mi ha sorpreso positivamente che quello negativamente allora positivamente è stato Cini selvatici di Jun Chang un libro che non è minimamente nelle mie corde non è il mio stile e il mio tipo di libro che leggerei normalmente ma che mi ha sorpreso piacevolmente e veramente ho divorato in pochissimo tempo è una storia autobiografica e non so è raccontato in una maniera che era estremamente avventurosa per me mi ha veramente catturato mentre negativamente è stato l'Eterno di Johan Spahr che avevo grandissime aspettative su questo libro e invece non si è rivelato niente di quello che mi aspettavo anzi è stata una grandissima delusione numero 8 21 marzo finalmente è arrivato anzi siamo all'aprile anzi a maggio quale libro non vedi l'ora di leggere questa primavera allora nella primavera non lo so se ce la farò però di sicuro di quest'anno mi piacerebbe leggere I Cacciatori della Notte l'ultimo libro della trilogia dei Diari dei Mezzanotte di Scott Westerfeld mi manca solo questo per finire la serie e spero di leggerlo al più presto e se non comunque di questa primavera entro la fine dell'anno numero 9 gita fuori porta in quale libro ti piacerebbe fare una gita sarò banalissima ma è veramente il libro per cui ucciderei pur di entrare in quel mondo lì ed è Harry Potter e la pietra filosofale perché ditemi quale persona che ha letto Harry Potter e gli è piaciuto non abbia sognato di ricevere la propria lettera per andare ad Hogwarts e prendere la vacchetta e studiare a Hogwarts e impugnare un manico di scopa e giocare a Quidditch e trofilarsi nella foresta proibita evitando i banjo a morte possibilmente e i ragni giganti però veramente Harry Potter tutta la vita assolutamente con questo si conclude il tag se volete scrivermi qua sotto le vostre risposte e linkarmi il vostro video o il post dove le date mi fa super piacere anzi vengo a vederlo molto volentieri di mio taggo tre persone ovvero Angela del canale Angela Canucciari tesoro lo sai che ti tocca con me abbi pazienza Sissi del canale SissiTube la dolcissima Sissi che mi fa sempre un sacco piacere vedere i tuoi video e Federica del canale Diario di Fede anche lei dolcissima fa dei video super carini su libri serie tv e film che mi fa un sacco piacere seguire io spero di avervi tenuto compagnia e noi ci rivediamo al prossimo video ciao